Musica Io nasco da una famiglia di origine contadine e che poi per quello che è stato il boom, il minacolo economico del nord-est si è un po' evoluta industrializzandosi e ha seguito il processo di industrializzazione di quello che è il nord-est quello che è stato il fenomeno del nord-est e io sono riuscito nel tempo a creare una piccola azienda che produceva macchine agricole specificatamente macchine per irrigazione è stata per me una esperienza fondamentale perché mi ha permesso di viaggiare moltissimo mi ha permesso di fare moltissime esperienze perché ho avuto modo di visitare tutta l'Europa tutto il continente americano sono stato più volte in Australia tutto in Sudafrica quindi ho avuto modo di conoscere a fondo molte realtà diverse da quelle che erano le realtà locali poi purtroppo a un certo punto della mia vita e precisamente a 38 anni è successo un fatto che l'ha cambiata completamente a seguito di un incidente stradale sono rimasto tetraplegico cioè completamente paralizzato dal collo in giù e questo ha completamente cambiato la mia vita ha completamente cambiato il mio modo di vivere precedente e anche la scala delle mie priorità come ho già detto la mia vita cambia completamente cambia completamente per me e per la mia famiglia anche perché io ho un figlio che al momento ha 26 anni ma al momento dell'incidente ne aveva 16 quindi anche per lui è stato uno shock uno shock molto molto grande si secca tutto il pasticcio ho fatto un pasticcio ma si sta seccando? sei com'è la... non so quanto può tenere? la reazione che ha avuto mia mamma è stata la reazione tipica di una mamma che viene proprio quando viene colpito il figlio viene colpita anche lei viene colpita quasi fisicamente anche lei però ha reagito in maniera molto forte e soprattutto nel periodo post-incidente mi ha seguito quasi mi ha seguito giornalmente sto ponendosi proprio a un tour de force molto 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 estenuante la reazione di mio papà che lavorava con me in azienda è stata un po' più è stata un po' più lenta più riflessiva, più ponderata nel senso che abituato come era a vedermi all'interno dell'azienda con dei compiti anche abbastanza di comando vedermi tutto entrato in una situazione completamente nuova per lui è stato uno shock forse più forte ancora di quello di mia mamma la forza per ricominciare una nuova vita non è nata da una sola persona ma è nata da un insieme di persone prima di tutto dall'amore della mia famiglia dal fatto che dal giorno stesso in cui ho avuto l'incidente loro hanno cominciato a spendere tutta la loro vita per per accudirmi e per riportarmi a una cercare di riportarmi a una normalità a una qualità di vita per lo meno accettabile poi mi sono stati vicini anche parecchi miei amici amici che io mi sono creato in anni e anni di anni e anni di vita comune per esempio qua nel nostro piccolo paese io ho sempre vissuto qua quindi ho le mie origini i miei amici sono qui in questa terra e ho degli amici che conosco dai tempi della scuola dai tempi dai tempi dell'infanzia e con i quali sono rimasto in contatto e che non hanno perso il contatto con me anche i contatti con me anche dopo l'incidente prima dell'incidente oltre alla mia attività di oltre alla mia attività imprenditoriale io avevo anche l'idea di valorizzare un piccolo fondo un piccolo podere di proprietà della mia famiglia la mia idea era quella di di trasformare questo fondo di piantare una vigna e di produrre anche un vino un vino proprio un vino nostro ecco un vino che portasse il nostro nome questo progetto che io ho preso dal lavoro come ero prima non sono riuscito a portarlo a termine sono riuscito a renderlo a renderlo visibile a renderlo reale solo dopo l'incidente è stato una è stata una specie di di impegno di obiettivo che io mi sono posto e mi ha aiutato anche dopo l'incidente a crearmi per crearmi un obiettivo per crearmi uno scopo e oggi sono fiero di essere riuscito a creare questa piccolissima attività la creazione di questo piccolo di questo piccolo podere ha dato poi origine anche a un libro che io ho scritto titolandolo appunto il mio podere il mio podere è un libro che racconta la mia storia ma racconta soprattutto delle mie due vite perché l'incidente rappresenta come uno spartiacque che divide la mia vita proprio in due la divide la spezza proprio in due quella che era la vita precedente e quella che è la vita successiva nel libro io narro con capitoli a fasi alterne cioè un capitolo di prima vita e un capitolo di seconda vita quella successiva all'incidente faccio un po' una una mia autobiografia anche se un po' romanzata e parto da quello che è parto da quelle che sono le origini della mia famiglia per arrivare sino a quello che sono adesso appunto alternando però le due cose le due le due vite il motivo per cui il motivo per cui ho scritto ho alternato ho deciso di alternare un capitolo di prima vita e un capitolo di seconda vita è proprio per rendere al lettore per rendere al lettore molto chiara la diversità proprio la la profonda diversità che c'è fra una vita e l'altra il libro io l'ho scritto per due o forse tre ragioni principali la prima ragione è che volevo rendere partecipi al lettore anche della mia prima vita cioè volevo far capire a chi leggeva il libro che il Daniele che vede adesso non è semplicemente quello della seconda vita ma ha avuto anche una prima vita e che quindi quello che vede adesso è la somma di entrambe queste vite delle esperienze precedenti e delle esperienze successive il secondo motivo per cui ho scritto il libro è che volevo volevo rendere partecipi anche i lettori di tutto quello che è il di tutto quello che è il percorso che segue a una a una a una situazione del genere come la mia il percorso riabilitativo il percorso il percorso anche introspettivo personale le difficoltà personali le difficoltà della vita di tutti i giorni per riuscire poi anche a arrivare a una vita che ha una qualità di vita che è accettabile e che anzi sotto certi aspetti rappresentano stimoli in più per per lottare per continuare a vivere tutti i giorni poi il terzo motivo è quello che riguarda un po' anche un aspetto benefico cioè io ho deciso di devolvere tutti i diritti d'autore derivanti dalla vendita di questo libro a un'associazione che si chiama La Colonna La Colonna è un'associazione che è stata creata da un ragazzo che è diventato teraplegico come me durante un incidente di gioco mentre giocava una partita di rugby è un'associazione che ha un sito internet www.lesionispinali.org lesioni spinali tutto attaccato ed è collegata al Montecatone Rehabilitation Institute cioè questa associazione lo scopo di questa associazione oltre che di informare oltre che di essere un punto d'incontro rispondere anche concretamente alle domande di tutti coloro che hanno subito una lesione midollare è anche quello di aiutare la ricerca e questo avviene devolvendo i fondi appunto all'ospedale di Montecatone all'unità spinale di Montecatone che è l'unità riabilitativa più grossa d'Italia a seguito dell'incidente mentre io ero ancora in ospedale soprattutto grazie all'aiuto di mia sorella all'aiuto anche di mio papà e degli ingegneri dell'Inail di Budrio abbiamo costruito un pezzo di casa annesso a quello dei miei genitori collegato a quello dei miei genitori e questo pezzo di casa che adesso è diventato la mia casa è praticamente un piccolo appartamento autonomo dotato di tutta una serie di usili tecnologici e domotici che mi permette di avere una mi permette di avere una un'autonomia una discreta autonomia io riesco ad aprire le porte riesco ad accendere le luci a chiudere le tapparelle riesco ad accendere la televisione a cambiarmi il canale ad alzarmi il volume ad accendere lo stereo DVD e tutto quanto quindi riesco ad anche ad organizzare le mie giornate in una maniera abbastanza autonoma rispetto a a quello che è non ho bisogno di far intervenire sempre delle persone per tutte le piccole esigenze che sono che si verificano ecco giornalmente si verificano durante la giornata ma una delle cose più importanti è che io riesco ad interagire con il computer tramite un comando vocale riesco ad utilizzare il computer e questo computer per me è diventato molto importante cioè internet per me è diventato molto importante perché io tramite questo computer prima di tutto sono riuscito a scrivere questo libro ma seconda cosa rappresenta anche la mia finestra sul mondo la mia possibilità di spostarmi fisicamente è notevolmente diminuita a seguito della lesione che ho subito però posso tramite il computer posso spostarmi virtualmente e mantenere i contatti con tutte quelle persone che conoscevo prima un po' sparse in tutto il mondo e che adesso invece non riesco più a raggiungere fisicamente e oltretutto rappresenta anche una fonte inesauribile di notizie di possibilità di ricerca come ripeto è la mia grande finestra sul mondo pensare al domani è a volte è un po' può rappresentare un problema può creare degli interrogativi che ai quali non si riesce a dare risposta però questa è una vita che va vissuta giorno per giorno dalla quale bisogna cogliere giorno per giorno quello che dà e forse pensare troppo a quello che verrà può essere può essere anche deleterio sotto certi aspetti io la vivo e colgo quello che che mi dà giorno per giorno e una delle più grosse se uno dovesse dire una delle più grosse ispirazioni per il domani beh innanzitutto io spero di riuscire a vivere il tempo necessario per vedere per vedere realizzata la vita di mio figlio per vedere il percorso che farà anche il mio figlio e in secondo luogo spero come tutti noi speriamo come tutte le persone che sono nella mia situazione o che hanno delle o che hanno delle patologie simili alla mia speriamo che un giorno la ricerca possa regalarci la possibilità qualcosa di qualcosa di nuovo ecco c'è una speranza recondita che un giorno tutto questo questo possa avvenire e quindi possa realizzarsi quello che noi magari non abbiamo il coraggio di dire però in realtà in realtà in fondo di fondo speriamo grazie Daniele grazie